Con il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che sarà valido fino al prossimo 6 aprile, in zona rossa le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia, restano chiuse. Ma la regola vale a livello nazionale, mentre in Abruzzo un'ordinanza del Governatore Marco Marsiglio prevede che siano aperti asili nido e materne. Tuttavia, diversi sindaci di comuni in zona rossa hanno deciso di mantenere chiuse anche queste scuole fino al 14 marzo e il caso di Chieti, Lanciano, Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, San Giovanni Teattino e Spoltore. Sono saliti intanto a 33 i comuni abruzzesi in rosso. L'ordinanza del Governatore Marsiglio ridefinisce il concetto di zona rossa secondo le misure previste dal Decreto Draghi, rimodulandole in una sorta di zona arancione rafforzato. Il tutto fino al prossimo 14 marzo, sette giorni in cui la speranza è che in queste aree la situazione epidemiologica possa migliorare. Nella mappa delle località, con le misure maggiormente restrittive, figurano capoluoghi di provincia, città importanti, ma anche piccoli centri. Il DPCM vieta le visite a parenti amici, mentre l'ordinanza le consente anche in zona rossa, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno e possono spostarsi in due più un under 14 disabili o non autosufficienti conviventi. I residenti in comuni con meno di 5.000 abitanti possono recarsi nelle seconde case, che sono a 30 km di distanza, ad esclusione dei capoluoghi di provincia. Parrucchieri, barbieri e centri estetici restano aperti. Stesse disposizioni invece, sia nel DPCM che nel provvedimento regionale, riguardano il divieto di spostamento ovunque, fra le ore 22 e le 5 del mattino, salvo casi di necessità ed urgenza. Il rientro a casa, sempre consentito per tornare nella residenza, domicilio e abitazione, viaggi tra regione vietati, salvo per lavoro, salute e necessità, e apertura di ristoranti e bar fino alle ore 18 in zona gialla, con asporto fino alle 22, ma non per i bar, mentre il servizio a domicilio è consentito ovunque.